Anticipazioni tempesta d'amore. Lunedì 6 luglio 2020. Durante una giornata trascorsa insieme ad Alphonse, Walter ammette quanto il futuro gli crei preoccupazioni. Il zombie Claire gli dà una pacca sulla spalla e lo invita a non avere paura. L'uomo ritorna a casa rincuorato e dice a sua figlia che vuole affrontare con coraggio il prossimo appuntamento con il medico. Per i zombie Claire intanto la giornata si conclude con un evento a dir poco spiacevole. Margit si presenta in ospedale all'improvviso arrivando a disturbare la vicinanza venutasi a creare tra Tim e Franzi. Il giovane si sente ancora in colpa per aver spezzato tutti i sogni di zia e nipote e vorrebbe tanto poter rimediare. Quindi prende una decisione che però non è priva di forti conseguenze. Christophe riceve una comunicazione da parte di Annabelle dove apprende che la donna intende acquistare una sezione di spiaggia in Thailandia che tempo fa era stata dichiarata però non vendibile. L'uomo ritiene il movimento estremamente errato e va su tutte le furie. I sospetti di Lucy contro Nadia si fanno ogni giorno che passa sempre più forti. La donna si mette in testa di smascherare la Dark Lady. La Erlinger è sul punto di riuscirci quando a un tratto irrompe sulla scena Bella che ferma tutte le sue intenzioni.